Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati sul canale in questo nuovo video cercherò di spiegare in poche parole come funziona il Fanta B il fantacalcio della serie B vi rimetto qua nelle schede, non mi ricordo mai dove apparirà, forse qua sopra il video dove vi presento la mia squadra e un po' come si forma, come si gestisce una squadra nel Fanta B come scaricare l'applicazione eccetera eccetera ma in questo video voglio approfondire un pochino più il regolamento riguardo ai punteggi che verranno assegnati al singolo giocatore che poi faranno il voto complessivo della squadra vi rimetto il link in descrizione alla pagina ufficiale della Fanta B con tutto il regolamento ma vediamo un attimo insieme i passaggi fondamentali allora innanzitutto come vedete in questa prima schermata c'è un po' le caratteristiche principali e generali del gioco quindi 200 crediti, 15 giocatori, 2 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 3 attaccanti ci sono ovviamente, vabbè le rose non esclusive è ovvio che io posso comprare anche il giocatore che ha già preso un altro se non avrebbe senso ci sono i campionati generali della squadra di appartenenza e come il nostro, il nostro campionato dei Pisani qui vi metto il codice in sovraimpressione per iscrivervi ancora e poi ovviamente i punteggi i punteggi li vedremo specificatamente dopo tra pochi secondi il capitano e il panchino ovviamente ogni giornata potete selezionare il vostro capitano la vostra squadra, il vostro 11 titolare il calendario il calendario è un po' particolare nel senso che ogni giornata di campionato è divisa in turni turni che fanno riferimento agli orari delle partite cioè ad esempio domani sera c'è l'anticipo Venezia-Spezia e sarà un turno poi tutte le partite delle 14 del sabato saranno un turno le partite della domenica saranno un altro turno e il posticipo poi di lunedì sera tra Sampdoria e Cittadella sarà l'ultimo turno della quinta giornata di campionato di Serie B che sarà la prima del Fanta B tra un turno e l'altro è possibile fare le sostituzioni fra titolari e panchina ovviamente è il mercato quindi si possono vendere e acquistare i giocatori ogni fine giornata quindi da diciamo martedì per intenderci e sarà possibile fare di nuovo mercato ma vediamo al clou di questo video cioè il punteggio che ogni singolo calciatore otterrà in fondo alla giornata nel fantacalcio tradizionale quello della gazzetta sostanzialmente si parte dalla base del voto in pagella del calciatore poi si aggiungono i bonus e i malus in base agli assist, ai gol, ai gol subiti al rigore sbagliato, al rigore fatto mentre per quanto riguarda il Fanta B non c'è nessun voto in pagella bensì il voto è composto da una miriade di voci statistiche che ogni singolo giocatore ogni partita otterrà ci sono anche ovviamente i bonus e i malus faccio un esempio il gol segnato su azione da un attaccante vale 14 il gol segnato sul rigore vale 10 poi ci sono gli autogol che valgono meno 5 ad esempio per quanto riguarda i malus il rigore causato quindi magari il difensore che fa fallo e commette il fallo dal rigore prende meno 5 rigore sbagliato meno 10 la vittoria della squadra di appartenenza facciamo caso poi Ampalo vince il Venezia prende 3 punti comunque anche se non segna è comunque un bonus poi ci sono ad esempio i passaggi sbagliati e riusciti questo molto per i centrocampisti magari un pallone rubato anche qui per i centrocampisti il pallone perso i tiri in porta un tiro vale 2 punti un palo, una traversa ad esempio vale 2 punti un duello vinto un dribbling un tiro respinto magari per il portiere o per il difensore una grande occasione sbagliata ad esempio è un malus e questi sono un po' diciamo tutti i valori statistici che comporranno poi il valore finale del punteggio del singolo giocatore è un po' complesso nel senso che non è prende 6 in pacella poi ha fatto gol 3 punti 9 punti per il giocatore no ci sono tutta una serie di valori statistici che comporranno poi il valore finale quindi bisognerà attendere ogni volta il valore che ci darà l'app perché magari non è che possiamo guardare tutte le partite e poi anche a volte un passaggio per noi è sbagliato magari per la statistica no comunque ci saranno sicuramente dei tecnici che valuteranno ogni singolo punteggio poi c'è anche da scegliere l'allenatore a differenza un po' del fantacalcio tradizionale che anche lui apporterà dei punti alla squadra ad esempio faccio un esempio vedo qua nella tabella la vittoria della squadra di appartenenza allenatore porta 10 punti il pareggio 4 la sconfitta ovviamente 0 c'è anche un malus come il gol subito dalla propria squadra porta meno 2 il gol fatto porta un 3 la sconfitta in casa porta un meno 2 e quindi ecco questo poi è un po' la tabella dei punteggi per quanto riguarda l'allenatore che ovviamente è più semplice però ora il punteggio ottenuto dall'allenatore è positivo si moltiplica per il valore indicato nella tabella questa non l'ho molto capita quando invece è negativo si divide per lo stesso non ho capito differenza credito allenatore quotazione più alta questa non mi è molto chiara però vedremo poi probabilmente nella pratica sarà più semplice capire come vengono valutati anche gli allenatori piuttosto che in una tabella dove questa non l'ho capita ovviamente il calciatore a fine giornata potrebbe anche ottenere magari un valore maggiore rispetto a quello a cui l'abbiamo comprato mettiamo caso il giocatore X comprato a 10 ti fa due giornate di sfracelli e magari lo potete rivendere a 15 a 16 per poter comprare magari un altro giocatore a quel valore che vi piace di più e quindi anche fare delle plusvalenze in base alle prestazioni poi del singolo giocatore che avrete acquistato e questo è un po' diciamo il regolamento ecco quello che mi sembrava giusto approfondire era un po' i punteggi che non si basano sulle pagelle sui voti dati da magari un giornalista o da una redazione giornalistica ma bensì esclusivamente su dati statistici che vengono ovviamente elaborati dalla Lega di Serie B questo è un po' il riepilogo del regolamento del Fantabì vi metto sempre il link in descrizione come sempre vi chiedo di mettere mi piace al video di scrivermi nei commenti un po' le vostre squadre cosa ne pensate di questo regolamento che è un po' diverso dal fantacalcio tradizionale mi raccomando questo ve lo chiedo per cortesia iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto mettete cliccate sulla campanellina così riceverete le notifiche sul cellulare quando uscirà un nuovo video di un tifoso pisano che vi aggiornerà sempre giornata dopo giornata sul fantacalcio di Serie B ma non solo ovviamente domani ripartiremo anche con i pronostici l'analisi e i pronostici della quinta giornata di Serie B e poi live reaction commenti calzate varie sul canale mi raccomando iscrivetevi e come sempre forza ragazzi forza Pisa di Serie B Grazie per la visione!